Ben trovati con l'informazione di TG Melito. Giornata nazionale delle forze armate, celebrazioni in tutta Italia ed anche nell'area grecanica, ricordo dei caduti di tutte le guerre e di coloro che hanno perso la vita per preservare la nostra pace e la nostra sicurezza. Vediamo il servizio della commemorazione che si è tenuta proprio questa mattina. Celebrate in quasi tutti i comuni dell'area grecanica e della Locrite la giornata delle forze armate, il ricordo dei caduti di tutte le guerre e a coloro che in questi anni hanno perso la vita per la sicurezza e la pace. Omaggio reso anche a merito Portosalvo, dove la commissione straordinaria ha posto una corona ai piedi del monumento ai caduti, ricordando i tanti che nel corso delle due guerre mondiali hanno perso la vita. A seguire, gli alunni delle scuole medie hanno partecipato alla mostra Il Filo del Ricordo dalla Prima alla Seconda Guerra Mondiale, organizzata dal Circolo Meli. In un mondo che manifesta tensione e stabilità crescenti, scrive il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, si vanno affermando nuove e più aggressive forme di estremismo e di fanatismo che rischiano di investire anche l'Europa e l'Italia in particolare, infiltrandone gradualmente le società. È una minaccia reale, anche militare, che insieme all'Unione Europea e la Nato dobbiamo essere pronti a prevenire e contrastare. Cronaca. I finanzieri del nucleo operativo di Reggio Calabria hanno eseguito sei misure di custode a cautelare e due obblighi di firma presso la Polizia Giudiziaria nei confronti di otto persone ritenute responsabili di spaccio di droga nella città dello Stretto. L'operazione denominata Mala Erba ha portato al sequestro di oltre 4 kg di droga di vario genere. Le indagini hanno evidenziato una forte ramificazione degli spacciatori sul territorio che prediligevano le sale giochi e le piazze centrali frequentate da giovanissimi acquirenti. Alcuni di questi sono stati minacciati di gravi ritorsioni per non aver pagato in tempi rapidi la droga. E adesso cambiamo argomento. Due rapine sono state compiute in poche ore in distinti uffici postali in due comuni della Locride. Siamo a San Luca e a Dardore. In entrambi i casi sono entrati in azione due malviventi armati di pistola e con il volto coperto da passamontagna. Il bottino delle due rapine è in corso di quantificazione e sono in corso infatti le indagini dei carabinieri e degli agenti della Polizia di Stato. E adesso siamo a San Lorenzo perché nasce il presidio di Libera, Valle del Tuccio e Montebello Ionico. Con la nascita di quest'ultimo l'associazione si impegna ad essere sempre più presente sul territorio e tra i cittadini affinché non si sentano mai soli ma sicuri. Vediamo il servizio. Ieri nei locali dell'auditorimo San Gaetano Catanoso a Corio di San Lorenzo è stato costituito ufficialmente il presidio di Libera, Valle del Tuccio e Montebello Ionico che opererà sul territorio dei comuni di Montebello Ionico, Rogudi, Melito Portosalvo, Bagaladi, Roccaforte del Greco e San Lorenzo. Il suddetto presidio è stato intitolato alla memoria di Antonino Marino, brigadiere dell'arma dei carabinieri, medaglia d'oro al valore civile. Nel corso dell'iniziativa è stata ricordata la figura del brigadiere Antonio Marino, originario di San Lorenzo, un uomo che ha dimostrato di essere degno di indossare la propria divisa poiché ha compiuto il suo dovere a scapito della sua stessa vita, rimanendo ucciso per mano dell'Andrangata il 9 settembre del 1990 a Bovalino. E continuiamo con la cronaca. Un bar ed un negozio per la vendita di scarpe sono stati distrutti a Bovalino, nella Locride, in due distinti incendi di probabile natura dolosa. I due esercizi commerciali erano chiusi ormai da tempo, ma le fiamme hanno provocato ugualmente ingenti danni. Per spegnere i due incendi infatti sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato diverse ore. Sui due episodi sono in corso le indagini dei carabinieri. E adesso un'informazione di servizio che riguarda i cittadini di Reggio Calabria, perché il settore servizi tecnici comunica che per lavori urgenti di manutenzione ordinaria della rete idrica nel comprensorio di Pellaro in via nazionale numero 305, oggi martedì 4 novembre sono previsti di servizi idrici nei territori di San Leo, Mortara e Pellaro Centro. E c'è la Calabria a Milano, c'è al Vite con ben sei etichette di altrettante cantine della regione. Stiamo parlando di vini perché infatti sono sei le etichette inserite all'interno di questa guida tra i migliori vini italiani premiati ieri a Milano in occasione della presentazione di Vite e la guida vini 2015 dell'associazione italiana Sommelier La Ais, preseduta da Antonello Maietta. Le nostre eccellenze andranno in scena nel pomeriggio all'hotel Magna Park Suisse nella grande Kermess dedicata al vino italiano che per qualità e dimensione è stata definita alla degustazione dell'anno. L'evento presenterà le 2000 aziende recensite da Vite 2015 che è una novità editoriale assoluta e proporrà ai visitatori la degustazione dei 400 migliori vini, quelli premiati in guida con il simboletto dei quattro tralci. La presidente dell'Ais Calabria Maria Rosaria Romano, presente a Milano alla manifestazione, rende noti in anteprima i vini calabresi ai quali i sommelier Ais hanno assegnato l'eccellenza nella guida. Si tratta del passito Colli Marini 2013 dell'azienda Poderi Marini di San Demetrio Corone in provincia di Cosenza, del Moscato Passito di Saracena 2013 dell'azienda Cantina Vinicola di Saracena in provincia di Cosenza, chiedo scusa ancora. Si tratta poi del Rosso Magno Megonio 2012 delle cantine di Brandi di Ciro Marina nel Crotonese e sempre a Ciro, il Ciro classico rosso superiore. Ais 2011 della cantina Arcuri di Ciro Marina, poi il Rosso Maiocco 2010 della cantina Lento di La Mezzia Terme Catanzaro e del passito Mantonico 2010 della cantina Ceratti di Bianco Reggio Calabria. Spognando alla guida dell'Ais si scoprono quanto siano in realtà nutrite sia la pattuglia di cantine che la batteria di etichette made in Calabria sono ben 39, le aziende illustrate 167, i vini recensiti. Si può dire che quella dell'Ais è una guida che accende i riflettori anche su un'enologia come quella calabrese che Maria Rosaria Romano, presidente Ais Calabria, definisce in crescita decisamente orientata in un percorso di qualità del prodotto che punta sul territorio e le sue tradizioni e sulla riscoperta di un importante patrimonio di vitigni autoctoni. Pertanto troppo tempo, considerata la bella addormentata dei vini italiani, la Calabria sta riscoprendo una sua storia viticola, sta riscoprendo una sua tradizione. Insomma, la Calabria si è svegliata, sempre più aziende lavorano e producono vini eccellenti che hanno ben poco da invidiare alla produzione nazionale e non solo. E adesso cambiamo argomento, parliamo di meteo e parliamo dell'allerta diramata dalla protezione civile, infatti in arrivo una fase di spiccato maltempo su gran parte delle regioni italiane e l'area grecanica e l'ocridea sono proprio nell'occhio del ciclone, assieme ad alcune regioni del nord-ovest e del nord-est. La perturbazione infatti si estenderà in tutta la penisola, ma avrà la sua parte predominante nelle regioni meridionali, lo indica la protezione civile, che ha diramato, come dicevamo, un avviso di avverse condizioni meteo. Ma vediamo i dettagli in questo servizio. Maltempo in arrivo su tutta l'Italia. Si prevedono precipitazioni a carattere di rovescio o temporali sul Lazio, sulla Sicilia e sulla Calabria, specie sui settori meridionali ionici, nonché sulla Puglia, particolarmente sui settori meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forte raffiche di vento. In questa prima settimana di novembre si configura una situazione particolarmente insidiosa per la stabilità ideologica del nostro territorio. Infatti, una vasta e intensa perturbazione, la numero 1 di novembre, seguita da vari impulsi di aree atlantiche stabile, ha raggiunto le nostre regioni soffermandosi e scaricando grosse quantità di precipitazioni localmente anche più di 200 millimetri in 48 ore, in maniera insistente a causa della presenza di un antociclone di blocco stabilizzatosi sui paesi dell'est. Il lento deflusso verso est del sistema nuvoloso favorirà anche la generazione di un vortice di bassa pressione che resterà a ridosso della penisola fino al fine settimana. Il Comitato Operativo della Protezione Civile, presieduto dal capo del Dipartimento, Franco Gabrielli, si è riunito questa mattina a Roma per fare il punto sul maltempo che colperà l'Italia nelle prossime ore e verificare la preparazione del Sistema Nazionale di Protezione Civile, in particolare la riunione servita in vista dei prossimi mesi storicamente caratterizzati da forte maltempo per sensibilizzare tutti i rappresentanti delle componenti e delle strutture operative nazionali presenti al tavolo regioni, ministeri e enti interessati, vigili del fuoco, forze armate e forze di polizia, organizzazioni nazionali di volontariato, comunità scientifica, società di servizi essenziali affinché pianificano e mettono in campo ognuno in base alle competenze e responsabilità affidate dalla legge, tutte le necessarie misure e risorse per fronteggiare adeguatamente eventuali situazioni di criticità e mitigare per quanto possibile i rischi sul territorio. Buova Marina, venerdì 7 novembre alle 16.30 presso la Sala Irsec in Piazza Municipio, sarà presentato Lettere dalla Locri dell'ultimo libro di Ilario Amendoli, attuale direttore del settimanale La Riviera. Questo libro propone dei frammenti sulle vicende storiche e attuali della Calabria, dalle fucilazioni dell'Ottocento alle lotte per la terra, dalla stagione dei sequestri fino all'affermazione dell'antindrangheta. Ogni lettera ci parla di un processo storico nel quale hanno trovato origine e sviluppo i fenomeni sociali in atto. Al convegno organizzato dall'amministrazione comunale, dal sindaco Vincenzo Crupi e dall'assessore della cultura Maria Luisa Ollio, saranno presenti oltre che ovviamente l'autore Ilario Amendolia, il luogotenente dei carabinieri Cosimo Sprameli, sarà presente inoltre l'onorevole Saverio Zavettieri e Piero Sanzonetti, il direttore del Garantista. Modellerà l'incontro la giornalista Maria Natalia Iriti. E adesso calcio, perché c'è una nuova tegola, ahimè per la regina, anzi una doppia tegola, perché per la società Amaranto sono infatti in arrivo nuovi punti di penalizzazione. Uno sicuramente per il deferimento relativo al deposito in ritardo della fideiussione da 600.000 euro pagata oltre il termine del 30 giugno 2014. Altri arriveranno, per non aver documentato, come si legge dalla nota stampa, gli organi federali competenti, l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi IMSS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo fino al mese di aprile 2014. e quindi ci tocca la battuta, piove nuovamente sul bagnato. E questa era la nostra ultima notizia, grazie come sempre di averci seguito e buon proseguimento con Telemelito, il Tg Melito ritorna nelle prossime edizioni. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.